Ecco, vedevo tutte queste collaborazioni, Francesca, e come funziona questo mondo delle collaborazioni? Ti metti a chiamare in giro e dici, oh ragazzi, facciamo un pezzo insieme, come funziona? Beh, allora, io tra l'altro l'ultimissimo progetto, Fit, stato di natura, che è uscito il 13 marzo, è appunto un disco di Fit, quindi un progetto di collaborazioni. Dipende, diciamo che sicuramente nel mio caso, come nel caso di tanti artisti, chiami qualcuno con cui proprio un rapporto d'amicizia, un rapporto di stima, però a parte l'aspetto, diciamo, d'amicizia, c'è proprio anche in qualche modo la voglia di sperimentare, di fondere delle visioni differenti. Comunque quando chiami qualcuno, soprattutto se è di un mondo sonoro anche molto diverso dal tuo, hai proprio la possibilità di confrontarti, di mettere qualcosa di completamente nuovo nella tua musica. Sì, quindi secondo me è bello, cioè secondo me è molto bello quando o fai proprio tutto un progetto di collaborazioni, perché quindi dai, proprio comunichi una cosa della serie, sto facendo questa cosa perché voglio fare un progetto sperimentale, una cosa specifica. Oppure puoi chiamare qualcuno di specifico che ti dà proprio una nuova prospettiva su qualcosa magari di più lineare. Io sono sempre stata molto netta su queste cose perché comunque mi piace, mi piace fare cose sperimentali. Dimmi come funziona in pratica, cioè nel momento in cui dici faccio un pezzo con Fabri Fibra, hai fatto un pezzo con Fabri Fibra? Può essere uno locale, sì, sì. Ok, fai un pezzo con Fabri Fibra, che peraltro Fabri Fibra faceva il buttafuori a Brighton dove vivo io, insomma, ed è di Senigallia dove c'è il miglior centro di ping pong d'Italia, insomma. Chiudo parentesi, quindi ho un'affinità non conoscendolo a prescidere. Ma dici Fabri, allora facciamo sto pezzo? E lui dice, bella lì, dai facciamo il pezzo. Come funziona in pratica? Cioè come nasce quella cosa lì? Allora in pratica prendi la metro. Fabri Fibra non prende, cioè lui è Fabri Fibra, non può prendere la metro, cioè lui arriverà con l'elicottero. No, no, la prendo io perché sono una ragione ecologica, sì, sì. Allora, prendo la metro e ovviamente gli dico, guarda che sto venendo a trovarti che non puoi presentarti così senza chiedere se è in casa, se è insomma in studio. E vai in studio, in quel caso avevo scritto due pezzi e volevo proprio sapere innanzitutto se gli piacevano e avere proprio la sua prospettiva. Nel caso di Monolocale tra l'altro è proprio un brano in cui lui si è rivisto un po' per il fatto che siamo tutti e due persone che arrivano dalla provincia, che hanno vissuto in un monolocale, che hanno vissuto la grande città anche accusando un po' l'aspetto metropolitano. E quindi io gli ho fatto sentire questo brano e... Alzo la mano con mio figlio che ultimamente alza la mano per chiedere qualcosa perché lo trovo molto educato. Alza così, alza con il... Aspetta, aspetta, aspetta. Hai detto, scrivo un pezzo, quindi tu scrivi già parole e musica e già... è già pronto il pezzo, quindi tu dici questo sarebbe il pezzo. Dipende, sono varie modalità. Cioè nel caso proprio di Fabri Fibra avevo proprio scritto tutto il brano. Ok. Quindi l'ho proposto in modo che lui dopo scrivesse la sua strofa, il suo intervento. E quindi il pezzo che hai scritto l'hai anche inciso, tipo ti metti lì col cellulare e dici ecco questo è il pezzo. Sì, sì, lo abbiamo trovato all'incanto, sì, sì, sì. Ok, di modo che lui lo può sentire e dire mi piace, non mi piace, mi infilo qui o qua. Esatto. Ok, ok. E quando lo incontri c'è anche il produttore, il Charlie Charles di turno oppure vi trovate solo tra di voi? Dipende, ogni tanto ad esempio nel caso di Shiva che è un altro artista con cui ho collaborato in questo progetto, ad esempio lì abbiamo proprio creato il progetto da zero, ci siamo mandati invece in quel caso proprio delle idee col cellulare registrate marcissime e poi ci siamo trovati in studio proprio a creare il brano anche in maniera a livello sonora un po' più strutturata con il suo produttore. Sì, sì. Ok, e se ti trovi con un artista e gli fai sentire il pezzo che magari tu hai fatto con tutto il tuo massimo impegno e lui dice questa è una merda, questo non va da nessuna parte, e che cosa fa in quel caso? Allora, se hai voglia di collaborare con lui a tutti i costi perché ti piace troppo la sua visione e gli dici vabbè allora scriviamo un pezzo da zero insieme oppure proponimi qualcosa tu, altrimenti gli dici è stato bello, ti voglio bene, ciao. E finisce lì, ok. Perché magari su quel pezzo tu sei particolarmente, cioè ci credi tanto e può succedere che ci sono delle persone che proprio non vedo, non hanno la tua stessa visione anche futura su come può diventare un pezzo. Lì ci vuole un po' di, sì, di codivisione nel senso. Ti è mai capitato di andare con un pezzo da qualcuno, questo ti ha detto guarda non vai da nessuna parte, questo pezzo non lo ascolterà nessuno e poi hai scoperto invece che funzionava la grande e non era vero. Sì, 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 mi è successo un paio di volte e in quei casi è sempre molto strano perché io sono veneta, ci sarebbe un'espressione specifica che non posso dire, però mia nonna mi ha proprio insegnato di ascoltare sempre tutti, sorridere e poi non dico cosa, ma nel concetto di andare dritti. Ovviamente io in realtà lavoro con un team, quindi il bello di lavorare in team è che ascolti le opinioni di tutti ed è bello così. Poi se però su una cosa ci credi troppo, la vuoi fare assolutamente anche se il tuo team ti dice secondo me questa cosa, ovviamente uno la porta avanti, però raramente mi è capitato di scontrarmi internamente col mio team sulla scelta magari